Durante la serata di mercoledì del Festival di Sanremo, un segmento incentrato sulla violenza di genere ha messo in luce ghigli attori della serie «Mare fuori», iniziativa fortemente sostenuta da Amadeus. Tuttavia, la rappresentazione non è stata universalmente apprezzata. Carlotta Vagnoli, nota scrittrice, ha espresso disappunto tramite le storie di Instagram, criticando le parole pronunciate sul palco per essere troppo superficiali e distanti dalla gravità del tema della violenza contro le donne. Questo sentimento è stato condiviso anche da Elena Cecchettin, la cui sorella Giulia è stata tragicamente assassinata dall'ex fidanzato. Elena ha ritenuto il segmento un esempio di pinkwashing, inadeguato a onorare la memoria delle vittime di femminicidio. In seguito, Amadeus ha risposto alle critiche in conferenza stampa, chiarificando che non era prevista la partecipazione di Elena Cecchettin al festival e sottolineando il suo profondo dispiacere per la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Ha espresso rispetto per le opinioni di Elena, pur difendendo la scelta di includere il cast di «Mare fuori» nel festival, e ha aggiunto di non ritenere necessario scusarsi, non avendo contatti diretti con lei. E tu cosa e pensi della notizia?